andiamo si armiamo così la pennellata ci soppacqua non va bene è troppo limita già ho capito con la ferita prego allora stiamo giusto giusto o così ma questo è il punto del bianco a me non mi piace no no lo capiamo io non vedo l'ora di insaccherare il mio cappottino con l'ora di tocca ragazzi a rivederli io vado guarda copro anche il buco chi è? meno male che faccio cinema ragazzi se no col singolacero finita bene no? grazie 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 grazie